Negli anni neri della crisi il commercio a Firenze ha perso quasi un miliardo di euro di fatturato, ma nel 2014 l'emorragia dovrebbe arrestarsi soprattutto grazie al turismo e comunque con una grossa differenziazione fra il capoluogo e il resto della provincia. A presentare la ricerca dell'Osservatorio Economico di Confesercenti Firenze, il presidente provinciale Nico Gronchi con l'assessore comunale allo sviluppo economico Giovanni Bettarini. Negli ultimi 5 anni le nuove aperture sono crollate del 30% e gli unici a crescere sono stati bar, ristoranti e ricettivo ex alberghiero. Bilancio in rosso invece per il settore alimentare, la moda e le agenzie di viaggio. Quest'anno la situazione appare invece stabile e buone prospettive si aprono per il 2015 grazie all'Expo e alle celebrazioni per Firenze e Capitale. Le nostre aspettative, la scommessa è tutta lì sullo sfondo, c'è un 2015 che può rappresentare a Firenze l'anno di cambiamento e di rottura con i 5 anni di crisi pesante che abbiamo alle spalle. Fermo restando che le istituzioni dovranno fare la loro parte su questioni strategiche come le infrastrutture, tranvie e aeroporto in primo piano, nonché aprire un confronto sull'urbanistica. Non possiamo relegare l'urbanistica a quanto sta accadendo in questi mesi semplicemente ad assessori uffici urbanistici, vogliamo capire e governare quanto accade e lo faremo mettendo anche lì in fila progetti e proposte per come fare gli insediamenti commerciali per esempio allo stadio, come programmare l'urbanistica fuori dal territorio della città di Firenze con un'ottica che ovviamente da ora in poi dovrà essere di città metropolitana. La Confesercenti provinciale di Firenze in autunno si trasformerà nella Confesercenti metropolitana e imposterà le sue attività su 5 assi, credito, formazione e innovazione, progetti e servizi alle aziende.